15 anni da quando ho iniziato a fare la Sartiglia, come qualsiasi cavaliere penso che si aspetta questa giornata, perché penso che qualsiasi cavaliere che fa la Sartiglia aspetta il giorno di fare il capocorso. Un'unica, 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 un'unica. Un'unica, 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 un'un Una gran sicena è realità, risparta di solo resi una strada In questo momento di oziosità, non vanno da chi, non vanno da chi andrà male E davvero che custa non seg astronomers E cerb fundamentalmo la risconia E' vero che sollevano E' vero che sollevano E' vero che son' quieto E' vero che sollevano Grazie a tutti. 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 a tutti. a tutti.